Sì, conosciamo Tocatì. Ci sono stata solo una volta perché per motivi di turni poi non sono mai riuscita a partecipare di più. Una volta e l'ho girato più o meno tutto. L'anno scorso. E gli due anni fa. Bella, una bella iniziativa per la cittadinanza, molto partecipata, in realtà c'era tantissima gente e è stata piacevole. Bellissima iniziativa, credo anche per i ragazzi, anche per scoprire un po' i posti della città, un po' che siamo più nascosti. Io l'ho osservato soprattutto perché c'erano un sacco di bambini per cui avevo lasciato la palla. Ho lasciato pace ai bimbi che si stavano divertendo troppo, è più bello vederli giocare perché mi pare il cattivo che si mette in mezzo e gioca con loro. Anche se c'erano i quattro cantoni che non giocavo da quando ero piccola. No, in realtà quando l'ho fatto io ero ben gestito anche come traffico, come visibilità per cui mi girava bene. Effettivamente tante famiglie, tanti ragazzi, cioè era proprio piacevole, devo dire. Era veramente piacevole girarsi le varie aree. C'erano le varie attività, ho trovato veramente ben organizzato. Grazie. 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 Grazie.